Seconda cosa, Ricci ha detto Realpolitik. Allora qui bisogna essere chiari, la Realpolitik significa prendere atto che il Green Deal dell'Unione Europea è un piano energetico per tempi di pace. Oggi con la crisi del gas provocata da Putin, il Green Deal è una boiata pazzesca, va spostato. Non che sia sbagliato in sé, è sbagliato nel contesto. Secondo Realpolitik, noi abbiamo delle fonti di gas alternativa alla Russia, tra cui l'Egitto, dove Lenin è presente in maniera importante. Non è che poi se noi prendiamo il gas dall'Egitto i pacifisti vanno in piazza e dicono no il gas dall'Egitto, no il gas dall'Egitto, perché se no non se ne esce. Realpolitik significa anche prendere queste due decisioni importanti. Sì, non male questo, adesso apriamo la discussione anche su questo.